And the American Theatre Wing's Tony goes to... The Lehman Trilogy. Uno straordinario trionfo italiano senza precedenti alla 75esima edizione dei Tony Awards, svoltasi in presenza alla Radio City Hall di New York dopo due anni di pandemia. The Lehman Trilogy, opera del drammaturgo fiorentino Stefano Massini, ha conquistato cinque riconoscimenti. Miglior testo teatrale, miglior regia con Sam Mendes, migliore attore Simon Russell, poi migliori luci e scenografia. L'umanità dirà grazie, Mr. Lehman! Premi di gran prestigio che confermano tra i critici il successo già decretato dal pubblico per un'opera scritta da un italiano ma con ambientazione e protagonisti americani. The Lehman Trilogy è la saga finanziaria della famiglia Lehman, una delle più potenti in America, che ha dato un rilevante contributo alla crescita e alla crisi del sistema capitalistico di Wall Street. Tony Award va a Sam Mendes. Adattata da Ben Power, l'opera è stata impreziosita dalla regia di Sam Mendes, già premio Oscar per American Beauty. Una gioia immensa, ha commentato Massini dopo aver ricevuto il premio, con la voce rotta dall'emozione. È per me meraviglioso, è un testo che rappresenta tantissimo, per me rappresenta la mia storia, la mia idea di teatro, una cavalcata di 160 anni di storia, un'economia.